Non sono emerse responsabilità dell'ex dirigente comunale Alberto De Petro. Le accuse a suo carico sono venute e meno. Il collegio penale del Tribunale l'ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. L'indagine condotta dalla Procura si concentrò sulla mancata certificazione del maxi-credito vantato dal lato rifiuti nei confronti di Palazzo di Città. Circa 16 milioni di euro per conferimenti in discarica che risalgono a precedenti gestioni amministrative. Ancora oggi con l'ente comunale sull'orlo del dissesto e il macigno del debito contratto con Ato è tra i fattori che possono destabilizzare ancora di più i già precari equilibri di bilancio. La scorsa estate il Tribunale delle imprese di Palermo ha confermato che il municipio deve pagare. Secondo le contestazioni che invece hanno portato a processo De Petro la mancata certificazione del credito Ato avrebbe determinato la violazione della normativa in materia solo per evitare di sforare il patto di stabilità. Così ha spiegato il PM Mario Calabrese nel corso della sua requisitoria. Quel credito, secondo il PM, è certo liquido ed esigibile. Dai banchi dell'accusa è stata avanzata la richiesta di condanna per De Petro ad un anno e sei mesi di reclusione. L'ormai ex dirigente comunale che per quasi dieci anni ha retto le sorti del settore finanziario si è dimesso dall'incarico negli scorsi mesi perché non più in linea con le scelte adottate dall'amministrazione per affrontare l'attuale fase di crisi. La difesa, sostenuta dall'avvocato Maria Platania, ha ripercorso le ragioni che hanno determinato il giudizio e ha più volte ribadito che l'ex dirigente non ha violato la norma. Secondo il legale di difesa, il dirigente De Petro è stato un capro espiatorio. È stato infatti spiegato che le condizioni per certificare il credito non ci sono quando manca la copertura. Lo stesso De Petro, nel corso dell'istruttura dibattimentale, è stato sentito in aula e a sua volta ha ripercorso tutte le fasi della procedura attivata per il maxicreditoato del quale venne a conoscenza solo successivamente, nel 2015, così ha spiegato perché, relativo ad un settore del comune che non era di sua competenza, ha indicato che una minima parte di quelle somme sono state liquidate aggiungendo che il comune non ha mai negato il credito vantato dal lato. In aula aveva spiegato che sarebbe stato spalmato e che non c'era nessun rischio di default per l'ente. Il collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D'Amore, all'atere Evani Castro e Martina Scuderoni, a conclusione del giudizio, ha emesso l'assoluzione.